Un incontro per chiarire la situazione cimitero. È la richiesta avanzata dal Comitato Civico e Ambientale presieduto da Cosimo Panico. L'istanza inviata al Comune prende spunto dalla necessità di dare risposte a coloro che hanno stipulato il contratto di concessione col Comune e che sono ancora in attesa della conclusione dei lavori. Per tale motivo il Comitato chiede di conoscere la data precisa della consegna delle opere in modo da chiarire anche le modalità di restituzione del 35 per cento ai concessionari come concordato in fase di stesura di contratto. Una richiesta già avanzata un mese fa e che non ha ricevuto risposta. Se costretti spiega Panico a diremo le vie legali.